Aiutare la comprensione è una questione di ordine e quindi abbiamo detto i colori aiutano perché se alternati, se usati con criterio, se scelti in modo da averli in scala piuttosto che non in contrasto aiutano la comprensione, va anche detto che appunto altri aiuti che noi abbiamo a disposizione sono i caratteri e su questo noi prima abbiamo visto i caratteri che esprimono emozioni o che esprimono contenuto ma i caratteri possono anche essere caratteri diversi tra di loro e che rimarcano un concetto oppure come dire addolciscono, alleggeriscono un concetto e quindi avremo caratteri bold adesso poi vedi il disegno da qualche parte allora ho caratteri bold, non si vedi il disegno qua, aspettate prendo un pennarello Possiamo dire che i caratteri equivalgono al tono della voce? Anche, anche, devi dirlo mi sta nel microfono o urlarlo tipo? Possiamo anche dire che i caratteri a volte equivalgono al tono della voce sicuramente servono per fissare nella mente con più forza alcune cose o con meno forza altre cose però voi non lo vedete, no, no, uguale, uguale, ve li faccio dentro io posso scrivere una cosa così, io posso scrivere così oppure posso scrivere dopo ve lo giro Allora, ho fatto tre esempi ma poi ci sono anche quelli in tre dimensioni ancora più forti o ancora più leggeri Io posso scrivere un carattere leggero, leggero, una cosa dolce, posso farci tutti i ghirigori, fili, fiori, eccetera ed è una cosa, come dire, un racconto leggero, un racconto che accompagna, eccetera può essere in corsivo di stampatello questo camionino posso usare uno stampato deciso, un carattere chiaro, netto, deciso, che afferma, che fissa dei concetti ok, quello l'ho capito, quello è, quello è importante oppure posso usare addirittura un carattere doppio, più grosso, un bold che poi posso riempire e essere ancora più incisiva o addirittura posso farlo in tre dimensioni e essere ancora più incisiva è massiccio, è monolitico, si fissa a terra e non si sposta più questo aiuta a scegliere quali delle informazioni, tutte le informazioni sono utili alcune vanno ricordate con maggiore interesse, con maggiore forza, con maggiore, come dire, consapevolezza altre possono essere cose secondarie, altre ancora possono essere cose che a me hanno colpito io ve le trasmetto, magari a voi frega niente ok, sempre rimanendo qua sopra vi dicevo che perché una tavola sia chiusa, abbia i suoi contenuti all'interno, come dire, di un abbraccio che li tiene tutti insieme, che li accomuna, serve una cornice la cornice può essere una riga, come può essere tutta ghirigorosa, come vi pare a voi ghirigorosa è una parola assolutamente italiana tecnica di settore oppure può essere anche soltanto l'angolino ai quattro angoli, insomma qualcosa che venga insieme le informazioni e vi dicevo, o tutto in un foglio, o se avete intenzione di fare più fogli lasciate aperto un lato e andate avanti di qua o di là a seconda, se vi siete dimenticati un pezzo prima, attenzione vale la pena la cornice di farla alla fine alla cornice alla fine? sì, almeno avete le idee chiare ci siamo stati, no, non ci siamo stati, ho sforato ok, poi questa sono io non nella cornice, però nella mappa, nella pagina da qualche parte ci dovete essere voi quindi prima vi ho fatto disegnare nella carta d'identità ma ora ci torniamo ci prendiamo cinque minutini e ci torniamo voi ci dovete essere e ci deve essere anche la persona che sta parlando o le persone che stanno parlando e possibilmente anche il pubblico tutti ci devono essere ma dopo ci torniamo passiamo prima da qua, le cose facili dicevo, i testi possono essere per aiutare le persone a comprendere compresi dentro dei contenitori questi sono alcuni potete inventarvene altri c'è chi adora i fiori c'è chi fa tutto nelle foglie c'è chi magari anche a seconda del tema che si va a trattare insomma, però l'idea è mettere le informazioni all'interno di dei contenitori e su questo potete fare o come ho fatto io adesso che ho scritto all'interno o occuparlo tutto per esempio aspettate eh per esempio io posso scrivere occupando tutto il pesce posso riempire tutta la forma benvenuti ai nuovi dopo ci presentiamo ok? potete anche decidere di occupare tutta la forma o stare in mezzo occuparla tutta scrivere lungo il bordo scrivere fuori scriverle dentro però l'idea è che il contenitore vi deve aiutare a tenere le informazioni in modo da scandire quello che viene detto in modo chiaro perché la vostra mente la parte destra si ricorderà il contenitore ricordandosi il contenitore si ricorderà cosa avete messo nel contenitore quindi attenzione non mi riempite una tavola tutta di fumetti perché non è tanto leggibile le cose che effettivamente sono i commenti delle persone possono stare nel fumetto quello che dice il regatore magari sta in un altro contenitore o sta fuori dai contenitori perché se mettete tutto allo stesso livello di nuovo come per i colori non è più leggibile è piatto ok e queste sono le connessioni come vi dicevo prima può essere una connessione leggera ci sono due argomenti che stanno insieme ma forse no però magari potrebbero stare insieme oppure ci sono delle frecce un pochino più decise ci sono le frecce grandi dentro cui si può anche scrivere che sono connessioni forti da segnalare ci sono frecce più fluide perché magari bisogna svicolare un argomento che non è collegato e arrivare a raggiungere l'altro che è stato ribadito ci sono i punti del cucito oppure ognuno si può inventare quello che vuole ok ora questo ve lo piazzo da qualche parte ve lo ripiazzo là e vi chiedo di prendervi un foglio potete tornare secondo me a sedervi con un foglio A4 vi mettete attorno ai tavoli con un foglio A4 tutto quello che ti pare era il senso era per spiegarvi il senso e vi chiedo di fare due cose per me iniziamo con una la prima cosa che vi chiedo di fare su questo foglio A4 che potete tenere in verticale o in orizzontale come vi pare a voi è inventarvi il programma di una giornata può essere il programma vero di una vostra giornata tipica o può essere una giornata speciale di festa può essere quello che volete voi provate a inventarvi il programma in modo che ci sia tutto che ci siate voi che invitate che ci siano quelli che state invitando che ci siano le informazioni messe in chiaro i diversi tipi di carattere a seconda delle informazioni più utili e quelle meno utili e i tre colori più uno perché è appena arrivato non riesco a sintetizzarvi tutto quello che abbiamo fatto finora ma potete scegliere tre colori più un colore scuro che usate come base e questa è una regola ferrea poi un giorno vi spiegheremo perché poi vi faccio un po' di sintesi ora c'è lo streaming magari dopo vi il programma di una giornata tua una giornata può essere una giornata di festa una giornata vera una giornata di lavoro una giornata di impegni quello che devi fare dopo domani quello che deve stare in un solo foglio e deve organizzare le informazioni in modo che chi lo capisce capisca che cosa si ripete che cosa no che cosa interessante che cosa meno eccetera eccetera parole e disegni ci devono essere sia parole che disegni cornici, contenitori, connessioni tutto quanto tutto quello che abbiamo fatto fino adesso anche la vostra foto tutto ci dev'è tutto ci dev'è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Avete posto ai tavoli? Guarda che secondo me lì ci stai, eh. Ah, ok, va bene. È più utile fare il tavolo? No, no. Il motivo per cui usiamo i formati diversi? Shhh, laggiù. I motivi per cui usiamo i formati diversi? Non ce la possiamo fare? Sì. Ok. Li usiamo perché a volte vi capiterà di prendere appunti per voi, appunto di fare il sketch noting e di prendere appunti su piccoli formati, su un'agenda, su una moleskin, su un foglio a quattro, insomma su dei formati più piccoli. E allora va bene, dovrete prima o poi scegliervi un pennarellino adatto, una matita adatta, eccetera. Però si fa la stessa cosa ma in piccolo e le regole sono più o meno le stesse, più o meno. Però diciamo, queste informazioni che vi sto dando di base servono anche per lo sketch noting. Quando invece dovete comunicare con altra gente è bene farlo su un foglio un po' più grande, in modo da far sentire le persone coinvolte in quello che state facendo. Allora, se siamo uno a uno possiamo mettere un foglio in mezzo al tavolo e io disegno cercando di farti vedere quello che sto disegnando. Se siamo in tre, già questa cosa è scomodissima, quindi meglio usare un foglio a parete, su una lavagna a fogli immobile, un pochino più grande, in modo da coinvolgere le persone, farle sentire parte di quello che sta succedendo e quindi avere la loro attenzione. Quindi oggi noi alterneremo tantissimo il formato piccolo e il formato grande, proprio per dare l'idea di qualcosa che stiamo co-creando o di qualcosa che stiamo invece facendo più per noi. Cercherò di darvi un po' questa alternativa. Ora è come se voi stesse facendo un bozzetto di programma, che poi andrebbe fatto grande, però per ora intanto capiamo come viene. Oppure il programma della vostra giornata che effettivamente è solo per voi, non interessa agli altri. Questo vale anche per la lista della spesa, per l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale, per quello che volete, per il programma di una lezione, per il programma di un evento. batte tutto. Uno scuro più tre quelli che vuoi. E quello che vi ho chiesto di fare è di provare a disegnare un programma di una vostra giornata, tipo una giornata che ti interessa particolarmente speciale di festa, oppure una tua giornata di ansia, sì? Oppure quello che devi fare tra due giorni, per dire. Insomma, prova a farlo stando in un foglio a quattro. Per ora non hai altre informazioni, quindi fallo come ti viene. Bene, poi pian piano capirai un po' le cose che ci siamo dette, intanto le ripetiamo via via. Inizio a sbattere tutto. I fogli forse li trovo già sui tavoli. C'è un modo di bloccare quella porta? Un programma della tua giornata, tipo fatelo come vi viene, ovviamente chi non ha seguito finora faccia un po' come vi viene. Ci sono anche, cercate magari di riciclarli, come vi vede niente. E' uno scuro il trecomandolo? Sì. Quello è scuro. Potrei prendere anche una vita. Come vuoi, come vuoi, sì sì. Come vuoi, come vuoi, sì sì. Come vuoi, come vuoi, sì sì. Come vuoi, sì sì. Questa cosa, no? Però questo deve prendere, no? Certo. Sì? Perché forse non è aggiornato se lì sotto. E' bellissimo. Ah, ok. C'è quattro punti e lui prende tutto quello che fai nel mezzo. Non so se lo stanno detto. Eh, beh, è già qualcosa così adesso, già tanto così infatti. Sì. E' certo. E' certo. Fa presto, sì. E' certo. E' certo. Forse per prendere un aggiornato. Adesso magari ci arriveranno. E' molto bello. Oh no, lo proverò sicuro. Molto bello. Certo, certo. E' molto bello. Ma se anche si posesse qualcosa andrebbe bene lo stesso. E' un mondo. Ci sentono tutti. Ci siete? Signore, abbiamo da fare 100 miliardi di cose oggi. Giulio, parole e disegni. Tutte e due. Lo so, a un certo punto uno va in lupo. Fa solo disegno o fa solo parole. Non mi sembra. E ma non si sembra. Ma nonimola. È un occhio. E poi anche questa cosa. C'è una, c'è città in macchina. Cosa piace? C'è una cosa. È un giubbotto. No, quello non serve a voi, serve a me per ricordarmi i pezzi, no, figura, se no non mi ricordo dove siamo arrivati, anzi a me serve un altro foglio per dopo, li abbiamo finiti, quelli un po' di potere li abbiamo finiti. Una giornata tipo, una giornata che devi vivere dopo domani, insomma un programma di una giornata. Ciao! Piacere Sara, ti direi, togliati poi prendi un foglio a quattro e ti spiegano ai tavoli che cosa stanno facendo. Piove? Wow, i fichi secchi, meraviglia! Guarda, che cose pazzesche! Io voglio, certo che voglio! Che buono! Sono un po' diverti! Oh, anche quelli, ma che bello! Mmm, buoni! Oh, sono buoni! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Buonasera, buonasera, buonasera. Poi un giorno che spiegheremo perché se no adesso se li prendo da capo è la fine. Ho chiesto di disegnare un programma di una giornata tipo, o della tua giornata tipo, o di una giornata che stai per vivere in questi giorni, o di una giornata di festa. Un programma. Scrivere e disegnare. Oppure se vuoi aspettare un attimo partire dall'altro esercizio perché tanto ora qua stanno finendo. Avete finito? Sì. Nel frattempo mi comunicano che piove. Io vado allo stesso, non abbiamo capito, io al mare ci vado nello stesso. Infatti sì. Quindi bisogna avere caratteristiche. Anche per i caratteri molta. Grazie. 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 Ci siete? Dai, su, su, abbiamo da fare veramente tantissimissimissime cose. Dai, chi ha finito può iniziare a venire qua a raccontare la nostra mondovisione, che ho già permettendo, ce l'abbiamo fatta? Un pochino la sua giornata, insomma, il suo programma e a spiegarci come l'ha costruito, quali regole ha scelto di seguire, per renderlo il più comprensibile possibile. Voilà. Ci serve il microfono, che è spento, però adesso io lo accetto. Chiudo. Mike, buongiorno in confronto a me, non mi dà questo. Ah, vai. D'avanti, fanno te lo vedere a lei, a loro ma anche a noi. Allora, ci sono io all'inizio. Lei la mattina ha i capelli. No, 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 lo sento. Io la mattina. È l'ambiente che è piccolo, quindi. Non grido. Ah, purità. Posso grido? La mattina, io ho i capelli così, quindi io sono... Allora, il primo pensiero della mattina è la colazione, quindi ho messo il blu perché è una cosa che continua, l'idea di una cosa che va avanti, che continua e quindi possibilmente si continua a mangiare. Rosso perché è importante che si mangi tanto. Poi c'è una freccia che mi porta alla seconda parte che è il movimento, che è importante. Ho messo il rosso perché per me è una parte importante. Quella è importante. Dopo il movimento c'è tutta una stradina che mi porta nella vasca da bagno, che è un'altra cosa che sembra che non faccia niente dalla mattina alla sera, che mi dà gioia. Infatti ho messo il sole, il giallo, perché è una cosa luce, giallo, sole, vasca da bagno. Vasca da bagno. Quando ce la faccio. Quando ce la faccio. Poi come un razzo missile, suona la scrivania, i capelli si arricciano, per miracolo. Perché? Non sapevo che fare il computer, quindi non è il parrucchiere, è la scrivania. Quindi c'è tutta una parte che è anche col tratto più... Insofferente. Sì, esatto. Più schizzo. Dopo, e continua, c'è sempre questo blu che continua, c'è tutta una parte importante che se la bambina, parco, giochi, bicicletta, che in questo momento della mia fase è grande, quindi è rossa ed è grande. E uff, vabbè, alla fine penso di... Uffa, proprio uff, tratteggiato a sbuffo. E c'è la televisione, bella grande, che continua. E poi si va a dire che è importante. Grazie. Quindi c'è una sorta di ricorsività nell'uso dei colori per segnalare le cose importanti. Sono io. Le cose importanti e le cose che danno il flusso e i tratteggi leggeri o il grigio per le cose che fai un po' più lentamente, anche un po' con meno voglia. Ok, questa è una scelta possibile, qualcun altro che ha fatto una scelta diversa? Io faccio una cosa completamente differente. Vai. Perché non avevo capito che allora ho fatto una cosa mista. No, ho fatto un programma di una cosa che devo fare davvero nel prossimo weekend. E quindi ho pensato, ho messo, o prima ho fatto in nero il programma, ma non sono assolutamente soddisfatta perché poi ho detto ok, i momenti di pausa li ho fatto in un altro. colore per distinguere la parte lavorativa dalle parti... Cascola, mi sposto io perché credo sia un conflitto. Però mi sarebbe, cioè mi sono reta conto che mentre facevo i disegni, ah e poi siccome hai detto ah, metteteli voi, allora ho pensato di mettermi come facilitatrice noi, quindi il cartello rispettiamo gli orari, una cosa del genere, con il disegnino simpatico. però non sono soddisfatta perché mi sembra, se adesso lo guardo, mi sembra che non emergano le nuove. Cioè è troppo... Due giorni, le due cose fondamentali sono le pause. Vero, e vengono le pause. Cascolo perché, in effetti... Perché ovviamente... La data, perfetto, il titolo perfetto, la cornice, tu ci sei, la festa finale stra evidente, però se ci sono un paio di momenti davvero importanti di contenuto, o li circondi con un colore o gli fai un'iconcina, insomma, una freccia, qualcosa che segnali che quelli su due momenti... Cioè, il momento... Di contenuto, insomma... Emerge, emerge fondamentale... La festa... La cose importanti per me, la festa e il cibo. Perfetto. Che gran facilità... Sì, il programma. Il programma, sì, con la data. Ottimo. Esatto, esatto, la parte di te... La partita che è in lei. Ok, perfetto. Qualcun altro? Non tutti, tutti, ma chi ha voglia di farlo, insomma... Io ho un problema, perché ho una grafia pessima, e tutti i miei... Abbiamo detto che va tutto bellissimo. Qui è una mezza giornata di lavoro, come lo faccio io, quando lavoro il lunedì, ho la riunione degli operatori e l'ho fatta azzurra, perché cerchiamo di riprendere la settimana in maniera tenue, non troppo affaticata, tranquilli, portiamo il caffè, facciamo il caffè. Poi la questura alle 11 per i permessi, e l'ho messa in rosso, perché volevo metterci un berretto, però... E poi alle 12, comune, dottor De Giorgi, l'ho messo in verde, perché ultimamente il responsabile dei servizi sociali di Grottaglia è cambiato, è una persona molto attenta, responsabile, l'ho messo in verde, perché è sereno l'incontro con De Giorgi. Grazie. Ecco, una cosa, se qualcuno volesse saperne di più... Ciao, vieni, vieni. Se qualcuno volesse saperne di più sulle vostre attività di quella giornata, cioè un contesto è il vostro programma per voi, se invece è un programma pubblico, come nel caso di Melania, e di, ricordami il nome, Maria. Maria? Angela. Angela, l'unica che non si chiamava Maria. Angela, è importante che se qualcuno volesse saperne di più per contattare, un contatto va messo, una mail, un numero di telefono, una cosa in un angolino, da qualche parte, un contatto città. Ok. I miei caratteri cubitanti. Vai. Allora, sveglia anch'io i miei bel capello da messa in piega, ovviamente il mio buongiorno lo do aprendo le finestre al sole, perché è una cosa che mi rallegra, e poi necessariamente rassettare casa, quindi un bel punto interrogativo, una smorfia negativa, perché a chi è che piace, e poi subito dopo, tocca cucinare, sempre, e quindi io piacevolmente a mangiare, poi dopodiché, me l'ho scandita molto velocemente poi alla giornata, alle 17 si va al lavoro, e ho mostrato insomma il mio ristorante, faccio per ora la cameriera. Ottimo. Ottimo. Grazie. Prego. Qualcun altro? Vai. Fedele, nel frattempo hai voglia di spiegare a lui che è arrivato, di prendersi un foglio a quattro, anziché il programma provare a farsi il suo menù, che è arrivato, solo che io adesso sono un massimo. La mia giornata è, l'ho disegnata quasi tutto in disegno, parole poche. Comincia che apro le tende, guardo gli alberi e le piante, do da mangiare ai cani, innaffio delle piante, faccio colazione, vado a cegli a fare della spesa, torno a casa, faccio il pranzo o la cena, leggo e guardo la televisione. I puntini in rosso, c'è la retella, pausa computer, ovunque c'è pausa computer. Perfetto. Invece avrei dovuto tenere il microfono qui. Perfetto, solo tu, mettiti da qualche parte. Sì, va bene. Grazie. Quindi la ricorsività, c'è chi la fa con i colori, c'è chi la fa scandendo attività e incorniciandole in modo diverso, c'è chi la fa mettendo dei puntini dove c'è un elemento che si ripete. L'importante è che la ricorsività delle cose ci sia, cioè per aiutare uno a capire il vostro programma e a memorizzarlo, è bene scandire le diverse attività, usando i colori, usando i font, usando diversi contenitori, come volete, però è bene che ogni cosa sia al suo posto e abbia un peso specifico diverso. Questo permette a chi lo guarda di dire, ah ok, quindi se io domani all'incontro non riesco a esserci alle 9 ma ci sono alle 3, so che mi aspetta questo e quest'altro. Se io vado a casa di Angela, alle 10 non c'è perché è in quest'ora, capito, no, alle 11, è in quest'ora e quindi così via. Ok, per cui mi aiuta a ricordarmi le cose che mi devo ricordare. Qualcun altro? Andiamo avanti? Allora, le ultime cose che vi volevo raccontare, non sono poche, però ci sono ancora 2-3 cose tecniche che vi volevo raccontare e poi passiamo a questioni un pochino più di contenuto, a lavori un po' più vostri, però vi do le ultime tracce in modo che in questa mezza giornata abbondante abbiamo fissato tutti i paletti. Riprenderei un attimino la questione dei ritratti. Io vi dico che ci dovete essere voi e ci devono essere le persone che parlano quando voi fate una sintesi, sia essa grande per tutti o piccola per voi, perché questo aiuta a ricordarsi chi ha detto cosa e anche a sentirvi parte di quello che viene detto. Allora, non è importante che il ritratto sia fedelissimo a come siete voi, ma c'è una cosa fondamentale, il ritratto deve avere il vostro segno di riconoscimento, ognuno di noi si riconosce o si vede addosso qualche cosa che è solo suo, non so, io ho un'amica che usa gli occhiali verdi e ha sempre addosso qualcosa di verde e se lei si deve disegnare magari si disegna, non so, uno ieti, ma con gli occhiali verdi, quella è lei comunque. Ho un'altra amica che ha sempre il rossetto e sente che il rossetto rosso è un po' il suo segno di riconoscimento, quindi se lei si disegna ha sempre il rossetto rosso. C'è chi ha i vaffe, c'è chi porta una pettinatura particolare, c'è chi si è appena tagliato i capelli e vuole far vedere che ha i capelli corti perché è quello, c'è lei che dice io ho sempre i capelli spettinati, oggi è pettinatissima, però lei si sente spettinata e si disegna spettinata, c'è chi, non lo so, insomma, chi fuma tanto e si fa sempre la sigaretta in bocca, chi ha la matita qua dietro perché ci tiene a far capire che comunque disegna. Trovate in voi il vostro segno, quello che vi riconoscete, e riprovate a ridisegnare il vostro ritratto mettendoci il vostro segno. Vi chiedo di fare due cose, prendete un foglio a quattro, su metà vi disegnate voi e su metà disegnate la persona che sta alla vostra destra, per come voi la riconoscete, trovando il suo segno di riconoscimento ai vostri occhi. È interessante vedere come vi vedete, come vi vedono gli altri. Solo la faccia. Solo la faccia. Colore nero. Colore è quello che vi capita, non è importante. Ah, grazie. Lui si è messo a disegnare il suo menù. Lo disegna il suo menù? Eh? Lo disegna il suo menù o è scappato? Impaurito? No, perché non ha scappato. No, viene fra poco. Va bene. Se posso chiedere di passarmi la mia borsa un secondo che infilo lo scontrino, perché se no lo perdo. Grazie mille. Io ho una proposta, vista la difficoltà con i fogli, magari domani ognuno di noi porta un po' di fogli, che così potete riusare gli stessi, certo. È che purtroppo i pennarelli a volte si vedono un po' incontrolluti. Grazie. Sono qua i fogli. Volete? Io per esempio tendo a disegnarmi con... I capelli un po' sparati e uno che fa una specie di ricciolo, perché c'è stato un periodo... Io ho sempre avuto i capelli drittissimi. Poi c'è stato un momento della mia vita in cui mi si sono arricciati. Ora sono ritornati una via di mezzo. E quindi ho questa cosa che non so come ce li ho i capelli, per cui li faccio un po' dritti e sparati e un po' con questo coso che ogni tanto mi si forma là. Con il vostro disegno e poi quello che sta alla vostra destra. Intanto vi preparo un'altra cosa per dopo. Però non so, io ho un amico che fuma veramente una dietro l'altra, quindi per me lui senza la sigaretta non è lui. Cioè non gli somiglia. Mi vuoi segnalare col baffo, perché è molto spesso. Assolutamente, assolutamente. Grazie. 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 Fatto? Mi dite quando ci siete? Anzi, facciamo che quando ci siete avete finito, alzate una mano. Grazie. 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 Me lo fai vedere? Ce l'hai? Sono due cose di comunicazione. Questo è quello breve, poi c'erano 180 pagine. Questo è per la divulgazione. Ma è stupendo, ho fatto benissimo. Molto. C'è una palette e poi non si legge così, si legge al contrario, questo è messo solo. Ah, ok. Questo è per il suo. È una specie di infografica verticale, quindi? Sì, è verticale. Cioè, il libro lo uso in verticale. Poi in realtà c'è il collegamento sul mio linguaggio tra i medici e i pazienti. Questo è... Bellissimo. Carino, no? Molto. Poi siamo riusciti a fare passare il concetto proprio chiaro. Mortalità, 100 uomini non ce la fanno, cioè è molto diretto. Eh sì, è giusto, certo. La mammella... Ma è bellissimo. Carino, no? Molto. C'è una... C'è una... Diffondetelo perché, a parte che è utile in Seguin per i contenuti, ma poi è... C'è carino. Vabbè. Chiedete al laser se è possibile, però... Dieci giorni. Dieci giorni. La famiglia proprio. Vi siete massacrati? No, ma non è questo, ma è niente. Questo è il divulgativo. Ah, e poi c'è proprio tutto. Poi c'è quello tutto. C'è quello tutto. Che è una... Una cosa assurda perché... Tu fai anche grafica al computer? Faccio grafica digitale. No, molto bene. Perché se mi chiedono indirizzo a te, perché io invece non la faccio. No, questa... Quindi se mi chiedono ti mando. Ti mando i clienti che mi chiedono. E poi c'è quello che mi chiedono. Ecco, Sara. Fatto? E' certo, ma certo. Ma sono molto... Ma sono molto importanti. Molto importanti. Io quando mi disegno un po' di più non so la faccia, me le metto. Se tu ti presenti, se hai un amico la tua presentazione da fare, se hai una lezione devi iniziare oppure se sei a un convegno e c'è il suo intervento è bello da mettere. Un convegno scritto nella lavagna. Le posso firmare? Assolutamente. Certo. Però bisogna trovare magari un segno grafico. Non farei. Non metterei a fare la... Perché? Puoi metterlo per esteso o puoi decidere di renderlo un segno? Questo... Vedi te, se hai tempo di lavorarci sopra. Noi ci nascondiamo sempre. Mentre i relatori, la prima cosa che fanno è mettere una slide che sta 45 minuti prima che tu inizi a parlare, con il nome, il cognome, il ruolo, la carica e il lente per cui lavorano. Cioè... Delirio d'onnipotenza. Dio Dio! Io non ho mai pensato di mettere una firma fisica. E invece è importante. È un po' come dire questo perché noi facciamo un lavoro per cui quello che noi disegniamo, rappresentiamo, raffiguriamo, è quello che noi abbiamo capito, vissuto, ascoltato. È filtrato attraverso di noi. Quindi quello è un modo per dichiarare. Guardate che non è scienza infusa. Non è esattamente quello che è successo e che è stato detto. È quello che io ho vissuto mentre ero lì. È quello che io ho capito. Quindi è un modo per dichiarare che magari il relatore non è d'accordo con quello che ho disegnato. però io c'ero ascoltato e questo è quello che ho capito sostanzialmente. E andate tutti a fanculo. Poi alle vostre slide. Sono in mondo... Avevo detto che sarei stata brava. Poi non mi chiamano più in Puglia. Poi non mi chiamano più in Puglia. Allora, facciamo che avete finito. Che ha finito? No, vabbè, dai, su, avete finito. Quelli là stanno chiacchierando da 20 minuti. Avete finito laggiù? A casa avete finito? Tutti hanno finito? Perfetto. Allora, il ritratto è importante perché quando vi presentate, quando dovete tenere una lezione, quando avete un intervento da fare pubblicamente, quando avete bisogno di fare un piccolo vostro curriculum, uno short profile da inviare a qualcuno, un biglietto da visita, un... non so, qualsiasi cosa che venga in mente, intanto voi ci siete. E il fatto di mettervi anche piccoli, anche solo per sommi capi, per piccoli tratti, è un buon inizio. E poi perché quando invece fate un lavoro di graphic recording, per cui state sintetizzando discorsi che fanno altri, è un modo per ammettere che quello che avete disegnato e quello che voi avete vissuto, capito, ascoltato, non è esattamente quello che l'altro ha detto, parola per parola, ovviamente, è una sintesi filtrata da voi. Quindi il fatto di mettervi da qualche parte è importante. Ma è anche molto importante che se state facendo la sintesi visuale del racconto di Angela, Angela ci deve essere. Se no chi l'ha dette quelle cose? Anzi, che scrivere? Angela, mettete Angela. E così via. Angela perché ce l'ho davanti e perché non si chiama Maria. Su questo volevo chiedere una cosa. Chiedi. Quanto è importante capire in una situazione di forti conflitti, di forte divergenza? Microfono. Quando c'è una forte dimensione di divergenze, quindi forti conflitti, in cui la presenza di alcune voci riguardano, costituiscono un elemento che non fa bene al gruppo, spesso l'identità di chi parla probabilmente potrebbe meglio essere diluita. Andrebbe forse scelto. Questo è il mio punto di vista, poi liberi tutti. Lo vedremo. Intanto il conflitto è l'unica cosa in cui le parole vanno distinte dalle persone. Nel senso, ci sono punti di vista, ci sono aspetti condivisi, c'è un interesse comune, ci sono le posizioni. Questo più tardi lo andiamo a esaminare con cura. Allora, le posizioni e i pareri personali non interessano a nessuno. L'interesse comune e gli aspetti condivisi sono fondamentali, quindi direi che è l'unica cosa su cui effettivamente si può scegliere. E l'altro aspetto è che il conflitto va visualizzato e affrontato in modo risolutivo, quindi non per incancrenirlo ancora di più. Quindi se uno sta facendo il criticone, tanto per fare il criticone, il suo punto di vista lo si può pure appuntare e si può pure mettere Gigi dice che, oppure lo si può mettere in un angolo tratteggiato, scritto più piccolo, per dire noi abbiamo messo verbale in qualche modo anche il tuo punto di vista. Per alcuni è importante che ci sia, alcuni rappresentano il no, sono la posizione contro e ci deve essere, il contraddittorio va esplicitato, però se la voce condivisa è un'altra avrà un peso specifico diverso e sarà resa con un colore, un segno, un tratto diverso rispetto alla persona che ha sostenuto quello. In quel caso non serve che gli facciamo l'icona e l'altarino, basta che lo citiamo da qualche parte, secondo me, poi ognuno ha il suo punto di vista. Però, diciamo, dopo quando arriviamo un po' sui conflitti questa cosa la esploriamo per bene. Mi sembra comunque un ottimo smutto, dopo ricordatemi che ci ritorniamo. Allora, sì, io qua ho disegnato... Ho disegnato un personas, non so se sapete cosa sono e a cosa servono i personas. Si usano molto nel mondo del design e dell'UX design. Rappresentano l'utente, rappresentano la persona con cui avete a che fare, il cliente, l'utente, il paziente, a seconda delle attività, il partecipante, il facilitato, rappresentano l'altro da voi, insomma, la persona per cui state facendo qualcosa. Servono per caratterizzare un pochino queste persone, per dargli un po' di spessore, perché a volte si parla dei partecipanti, come se fossero tutti uguali, i cittadini, le donne, i bambini, gli anziani. Se ce ne fosse uno uguale all'altro, soprattutto come sentimenti, emozioni, modo di recepire le cose, modo di porsi, modo di partecipare, cioè il signor no c'è sempre, non sarebbe partecipazione senza il signor no, quello che dice no, tanto questo non serve a niente. Se state studiando un prodotto piace a tutti, ma c'è sempre quello che dice no, no, a me fa schifo. Avete scelto un colore, siete tutti d'accordo, si va a votare? No, 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 possiamo usare quel colore lì, insomma, c'è sempre. Ognuno ha il suo punto di vista, i suoi gusti, le sue cose. Allora, questo serve un pochino per allenarsi a rappresentare quello che gli altri stanno pensando, sentendo, eccetera. Quello che vi invito a fare, se avete a che fare con un gruppo di persone, questo ovviamente non nel caso siate in un rapporto uno a uno, mi pare evidente, provare a rappresentare che cosa queste persone sentono, che cosa vedono, che cosa dicono, che cosa pensano e che cosa sentono a livello emotivo. e questo aiuta a raccogliere un pochino le idee attorno a un oggetto, una proposta, un tema, una domanda. Ok? Proviamo. Proviamo. Vi chiedo di provare a farlo, sempre su un foglietto piccolo, girate il foglio, non c'è problema. e l'argomento è la parola conflitto. E l'argomento è la parola conflitto. Vi chiedo di provare a farlo con il vostro tavolo, fate un foglio per tutto il tavolo. Sì? Tutti aggredi a uno dei due tavoli. Fedele anche se hai voglia. e provate a vedere che cosa le persone attorno al tavolo pensano, sentono, hanno sentito, sentono dentro di loro, dicono. Rispetto al conflitto, alla parola conflitto, che cosa vi suggerisce? Questo qua, uno per tavolo. Alla parola conflitto, non ha un conflitto preciso. Ah, sono lì fuori, se volete, no, come volete. Quelli di cui ne avete di più a portata di mano. No, infatti, non volevo infierire troppo. Qua ve lo scrivo. Grazie. Grazie. Vedrete che se proverete ad utilizzarlo, questo è uno strumento che aiuta, da casa però forse non l'hanno visto, glielo facciamo vedere, è fatto così. Sì, sì, però anziché queste parole ci scrivete dentro quello che voi pensate, dite, sentite, eccetera, rispetto al conflitto. Sì, sì, scrivere o disegnare come vi pare a voi, però diciamo il disegno ha un suo senso in sé. Grazie. Ditemi, no, 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 l'immagine è quella lì, dovete semplicemente riempire i campi rispetto a quello che voi pensate, sentite, dite, provate rispetto alla parola conflitto. Potete scrivere parole o potete fare dei disegnini negli angoli che si creano. Il persona sa il persona, si è fatto così proprio, è un modello. Sì, sì, poi potete inventarvelo come volete, però anzi. Grazie. Grazie. intanto mi mangio un mandarancio forse c'è un momento proprio di guerra può essere anche passato il conflitto si è finito il conflitto è stesso il conflitto si è finito no no ma ognuno di voi uno nel senso ci devono essere quello che tutti voi pensate non una cosa di sintesi grazie 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 No, 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 la parola conflitto in generale. Quindi che cosa pensiamo della parola conflitto, cosa vede quando guarda il conflitto, cosa prova? Quindi proprio con la parola conflitto, per ora sì, senza pensare a uno in particolare. Grazie. 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 Sì, sì, sì. No, no. Stiamo scrivendo uno di noi quello che pensa, sente, vede quando c'è un conflitto. Sì, pensando al conflitto generico. Ovviamente questo è uno strumento che si usa rispetto a una domanda, a un tema, una cosa più puntuale. Però adesso mi interessava che capisse che c'è questo strumento, che è una delle poche cose che già si usa in giro in altri campi, visual. Anche perché le cose vengono scritte o disegnate, possono esserci delle iconcine al posto delle parole. Sara, dove hai messo la persona? La. Ah, ma le iconcine. Delle iconcine. Delle iconcine. Serve per differenziare i punti di vista, perché sennò uno considera appunto che i cittadini tutti sono contro il conflitto. magari qualcuno ha favore. Qualcuno l'avrà pure scatenato. Oppure ha bisogno dell'adrenalina che gli scatena il conflitto. Vai a capire. Oppure per lui quella non è una situazione di conflitto. poi tutto sta anche a capirsi sui termini, per cui... Quando avete finito alzate le mani e poi venite a raccontarlo anche agli altri signori. Ma se io tipo mi tolgo le scarpe e faccio una figuraccia... Tra un po' lo faccio. Non lo vedono ma ormai l'hanno sentito, per cui... E' un po' lo faccio. Grazie. E' un po' lo faccio. 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 Vedi io. E' un po' lo faccio. Ma questa è una... E' un po' è... Se inizia, che c'erano i giorni poi... E' un po' lo faccio... Scusami di nuovo. 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 Voi, 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 voi. Scusami di nuovo. Scusami di nuovo. Scusami di nuovo. Scusami di nuovo. Adesso vi spiego che cos'è. E' l'evoluzione. Ci siete? Scusami di nuovo. 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 c'era perdita di tempo, ricchezza, evoluzione, vita, opportunità di crescita, quindi sia gli aspetti negativi che gli aspetti poi di trasformazione, quelli positivi. Quello che vediamo in qualche modo rispetto al conflitto sono le aggressioni, le persone che gridano, che è simile poi al megafono, la rigidità e i microconflitti, ah e il non ascoltare, e non ascoltare. Vabbè stessa cosa qua, urla, ci devi provare, da uno a caso veniva quella, no, no. Odio il conflitto e comunque il conflitto è vita, quindi ci sono tante cose in realtà contrastanti. Quello che sentiamo è rabbia, voglio vedere la tv, no, accettazione, no, scusate, affermazione di sé, non ascolto, stallo, rifiuto. E questa invece tutta la parte delle emozioni che comunque, è la stessa cosa poi, adesso mi sto rendendo conto, comunque c'è la parte di energia vitale, la parte di paura, di tensione, quindi comunque ci sono dentro tutte e due, in questo gruppo c'erano tutte e due le cose, no? Tutte e due gli aspetti. Ma assolutamente, perché infatti un conflitto si genera proprio perché c'è la compresenza di troppe emozioni diverse, di troppe, di troppi, come dire, punti di vista che si sentono in antitesi tra di loro, poi non è detto che lo siano. Ok. Qualcun altro? Anche voi lo appendete, riappendete tutti vicini da qualche parte, che è così? Grazie. Come faccio a vederlo? Ti faccio da velino? Sì, grazie. Però lo devo leggere. Ma allora fai, no vabbè, faglielo vedere un attimo. Allora, il conflitto, cosa si pensa durante il conflitto, le nostre diverse espressioni di cosa si pensa? È sempre colpa degli altri oppure è sempre colpa mia. Andrà tutto bene. Punti di intesa, antitesi, insanabili, vaffa. Cosa invece si dice? Vaffa di nuovo? No, invece di vaffa si dice basta. Ah, vabbè. Confliggete in modo pacato da queste parti. Ma volevo pensare. innalzamento, tono di voce, concitazione, parole che offendono e questo? Cos'è questo? Punti di sospensione. Cos'è? Si legge. Ah, vabbè. Poi, cosa si vede? Un muro. Mimica facciale, gestualità, rigidità fisica, tutto sfocato. Cosa si sente? Urla, silenzio, sovrapposizione di voci, critiche. Cosa si sente? Disagio, agitazione, paura, ansia, insofferenza. Grazie mille. Gli altri? Appendeteli, appendeteli tutti perché questi ci servono anche domani. Se avete finito, se no, se avete voglia di raccontare anche il vostro. Benissimo, vai. Ti chiami che così impariamo. Silvia. Vai, ciao Silvia. Ciao. Allora, cosa si pensa? Che cosa hai nella testa? Che cosa hai nella testa? Un confronto in senso positivo, il conflitto. Vorrei uccidere tutti. Ho ragione. Cosa si vede? Il paraocchi. Il paraocchi. E questo ci tengo perché Gianluigi ci teneva, l'ha ripetuto tante volte. Non vede oltre, ma si vede soltanto ciò che sta vicino. Confusione? Si vede rosso o nero. Poi quello che si dice? Ho ragione io? No? Basta? Parliamone? Oppure non parliamone? Oppure che ne dici? Cosa si prova? Rabbia, disagio, frustrazione, incertezza? Però, una sensazione anche di, probabilmente finirà bene, ci porterà qualcosa questo conflitto. Quello che si sente? Molta confusione, urla, vociare, opinioni, consigli. Perfetto, grazie mille. C'è qualcun altro o li avete fatti vedere tutti? Basta? Allora facciamo un passo avanti. Qualcuno mi dice che ore sono intanto? Ok. Allora, c'è poi un'evoluzione del personas che adesso vi invito a fare, questa volta ognuno per sé. Mi spiace, io mi rendo conto, questo sarà una specie di corso un po' strano, perché passeremo da cose assolutamente generiche a cose super personali per poi a rigettarci in cose molto generiche. che va così, sono disorganizzata di mio. No, in realtà c'è una logica però, un conto è la logica degli apprendimenti, della visualizzazione è diverso da quello che metti in gioco di te, per cui va bene, insomma si alternano, ma voi siete bravi. Questa è super personale, veramente una cosa che non vi chiederò di far vedere a tutti quanti, una cosa che ognuno fa per sé, però fatela bene. Vi chiedo, dopo lo giro, beh, voi venite a vederlo intanto, dopo lo giro per lo streaming oppure se puoi girare pure la telecamera perché sennò non riesco a... Ho disegnato una persona che si guarda dentro, in realtà il suo sguardo sta andando verso di lì, sembra che piangano però insomma sta solo guardandosi dentro. Ecco, facciamo così, che almeno... E vi chiedo di fare questa cosa qua, di disegnarvi, di guardarvi dentro e di trovare quello che è il vostro conflitto irrisolto con voi stessi. Un bastardo. Uno. Uno dei tanti. Quello, proprio quello lì, quello che stai cercando di evitare, quello più bastardo, quello là. No, 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 quello proprio cattivo, facciamo che andiamo giù belli pesanti, che almeno lo capiamo una volta per tutte. E lo scrivete, lo rappresentate qua nella nuvoletta numero uno. Quindi qua mettiamo... Il conflitto è risolto. Dove c'è il numero due? Ci va quali sono state le esperienze, cioè cos'è successo, che cosa vi ha, secondo voi, vi ha portato ad avere questo conflitto? Non si andano allo psicologo, cioè è una roba... Però, se riuscite a individuare un fatto, un evento, una parola, una cosa, che vi ha portato là. Perché non sempre si visualizza per gli altri, a volte si visualizza anche per noi. Poi, dove c'è il numero tre, invece, vi chiedo di mettere due aspetti di questo conflitto che volete tenere presenti. Cioè, quali sono quelle due cose caratteristiche che lo identificano, per poterlo guardare in faccia. Ok? La differenza tra due e tre? Il tre è che cosa è successo, come siete arrivati a quel conflitto. E invece questo è come è fatto quel conflitto. Cioè, che cos'è? Che caratteristiche ha? Perché mi mette in crisi? Perché? Cioè, che cos'è? Ok. Il quattro è cosa ho fatto io? Di male. No, di bene, finora, per affrontarlo. Ma quindi cosa ho fatto per affrontarlo? Per affrontarlo, per ragionarci sopra. Il cinque è come mi sono sentito dopo aver fatto quelle cose. il sei va da sé. Quali sono i prossimi passi che intendo fare per superarlo? Ora vi chiedo di porre molta attenzione su due cose. La prima, ci sono questioni che sono riflessioni, ok? Secondo me, nella mia testa gira quel conflitto, ok? Penso che di esserci arrivato perché sono successe queste cose, sono pensieri. quel conflitto ha delle caratteristiche, le caratteristiche non sono pensieri, sono fatti, cioè è una descrizione un po' fisica del conflitto. Qua forse lo potete disegnare anziché scrivere, insomma, però è una roba che sta lì, è abbastanza perentore. me lo annoto e lo appendo lì. Che cosa ho fatto io è fondamentale perché l'ho portato fuori dalla mia testa e ho iniziato a agirci sopra. E quindi è un cartellone, cioè metto i manifesti su quello che ho fatto, yeah, l'ho fatto, ci ho provato. Come mi sono sentita, no, questa è ovviamente di nuovo un po' interna mia, un po' emotiva mia, non concreta, è un'emozione. I passi sono una strada che voglio percorrere, una direzione che decido di prendere tra mille strade possibili. Scusami, come mi sono sentito rispetto a quello che ho fatto? Sì, 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 sono numerati apposto, cioè c'è una sequenzialità. Questa cosa qui rientra nel campo del coaching, del visual coaching. Però è anche un buon esercizio da fare poi su problemi. Adesso io ve lo sto facendo fare in maniera un po' bastarda su una cosa molto posta personale. Perché a volte è utile provare a portare su di sé, non soltanto su cose generali, generalizzabili. Però vedrete che anche affrontarlo rispetto a una questione che blocca un processo, lo vedremo in questi giorni, provare a capire che cosa è un pensiero, che cosa è un'emozione e che cosa invece c'è di vero, di concreto, di tangibile, è un aspetto importante, soprattutto guardando i conflitti. L'altra cosa che vi chiedo di fare è vedere come, a posteriore, quando l'avrete completato tutto, vedere come guardare il vostro conflitto sulla carta e averlo tirato fuori da voi e guardarlo come qualcosa di diverso da voi. e questa roba fa un gran bene. Quindi prego, prendetevi il tempo che vi serve, adesso non vi dico tra due minuti, avete finito? Quando avete finito poi me lo dite. E avete bisogno che ci sono dei torti un po' più grandi della carta? Anche dei fazzolettini se vi viene, no, scherzo. Però ci sono le torte ai fichi secchi che invece tirano sul morale, quindi... Il conflitto è un pancato. Quando uno ha un conflitto mangia un casino, mangiala qualunque. Scusami, scusami, scusami. No, me lo metto di là. E così non dà fastidio. Io sono passata al togliermi le scarpe come... Sì. 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 Sparisce tutto, adesso vedrai. Poi dopo serve un caffè per riprendersi. Ma sai cosa che uno viene anche a questi incontri per riprendersi. Per divertirsi, certo. No, per riprendersi. E cazzo ora ti ritorno. Poi dice ninchia, ma devi provo a risolvere. Eh, sì. Perché se ti risolvi, ti ritorna. Mannaggia, hai ragione. In effetti questo è un po' azzardato. Spero mi perdonerete. No. Però è importante perché è difficile parlare di conflitti pensando solo che il conflitto è una cosa che non mi riguarda. No. Non lo racconti a noi, lo fai soltanto per te. No, no, non lo racconti a scritto. No, invece devi guardarlo fuori da te. Tiralo fuori da te. No, 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 no. Prima, stupendi. Sono maritati? Sì. Non sono anche chi l'ha portati, se... Eh sì, il via, mi sembra. Beh, andiamo a lavorare. In questo caso è bellissimo essere il facilitatore. Non fatevi degli sconti, eh. Mettete tutto, non mettete solo le iniziali, delle approssimazioni. E quello in mezzo siete proprio voi, eh. Non è un personaggio a caso come nel Personas. Siete veramente voi con tutti i vostri tratti caratteristici, eh. Questo ci serve per voi. Questo vi serve per voi. Perché il conflitto non è solo sempre qualcosa che sta fuori da noi. Sì, 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 certo. Non per una... No, 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 no. Ah, ok. Dopo me le chiedi. Vi strappo e abbiamo finito. Dopo si fa un falò di quelli esorcizzanti. Sì, ho la bambolina voodoo del conflitto. Di solito da qui partono dei cicli di serate in cui poi invece queste cose si affrontano. Quindi è l'inizio di solito di un percorso di coaching visuale o di gestione, insomma, di questioni un po' personali. Che non faremo. Mi serviva solo come spunto. Ma noi speriamo che anche a casa stiano facendolo, eh. Che non faremo. Giulio, scusami, questo era solo per dirti come non infierivano neanche un po' ieri sera contro di me, mentre io ero a cena beata con Melania. Non vale così. Senza neanche dirmi chi era l'uno e chi era il sette. Bastante. Però in quel caso non c'era nessun conflitto interiore. Era sempre assolutamente esplicitato. Non aspetta che questo l'ho fatto una piazza perché anche io non ce l'ho. Poi vi ripasso. Grazie. Dimmi tutto. Questa, visto, stasera ci abbiamo fatto due anni di palletti. No? Bello. Questa è una comunicazione urbana. Ma che bello. Questa è la comunicazione, tutti i segnali. Stupendo. Sì, poi li abbiamo messi tipo cantieri, no? Ma sono bellissimi. Ci sono addetti. Bellissimo. Questo è stupendo. E poi qua ci sono altre cose con i bambini. Prima con la pubblica amministrazione. Certo. E poi la SWOT le l'ho trasformato in poesia. Per cui la SWOT è politica e della pubblica amministrazione. Per raccontare i bambini. L'hai trasformata in una poesia. Sì, in anastrofi. Ma dai, ma fantastico. Ma tu sei un genio. Questa cosa qua in pratica poi diventa lo strumento di conoscenza di bambini. Poi lavorano loro scegliendo le nuvole, facendo le priorità sulle nuvole. Fanno l'adozione delle nuvole, scegliendo le nuvole col sindaco, eccetera. Bellissimo. Molto bello. Io qualche volta devo venirti a vedere all'opera. Beh, sì. Arriverò. E facciamole. Grazie. 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 Io vi volevo dire che nel frattempo è tornato il sole. rimarrà a vuoto. E quindi successivo. Magari chiediti come mai. Quello potrebbe essere il problema. Inizia a metterci due pensieri sul come mai. E poi va bene, avrai i prossimi passi. Magari è un conflitto nuovo che ti è avvenuto in questi giorni, no? Uno l'ho già fatto, l'altro l'altro, però non l'ho fatto nulla. E poi va bene, avrai i prossimi passi. Grazie. 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 Grazie.